Dalla natura incontaminata delle Alpi Marittime, dal cuore della montagna, lontana da ogni possibile fonte di inquinamento, sgorgano le acque di Lurisia. Perfette, pure, leggerissime, facilmente smaltibili dal nostro corpo, poverissime di sodio e molto compatibili con l'organismo. La leggenda racconta che le sorgenti termali di Lurisia vennero scoperte più di cent'anni fa dal minatore rosso. Le acque erano ottime da bere e possedevano miracolose doti curative. Da allora, il nostro compito è quello di permettere a tutti di bere le nostre acque, facendole arrivare comodamente sulla vostra tavola, incontaminate, così come sgorgano dalle sorgenti. A garanzia di ciò, controlliamo più volte al giorno le nostre acque nel laboratorio interno. Imbottigliamo con l'ausilio di macchine moderne, che garantiscono la massima qualità, utilizzando principalmente contenitori ecologici nel pieno rispetto dell'ambiente. La nostra acqua è esportata in tutto il mondo e, grazie al vetro, conserva perfettamente le sue caratteristiche. Ma Lurisia oggi non è solo acqua. Da straordinarie materie prime, creiamo diverse tipologie di bevande. Buone, naturali, vere. Perchè l'Urisia è l'essenza della natura, perfetta per origine.